Vieni a visitarci su www.sicilainformazioni.com Ovunque in tempo reale Ci troviamo con il presidente del Circo Lauria, Andrea Vitale Allora, finalmente un successo tanto atteso, tanto voluto Nelle ultime due stagioni un primo posto sfiorato Però finalmente ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta e veramente sono orgoglioso di essere presidente di questo grande club Noi abbiamo organizzato tutto nei minimi particolari Con Fabrizio Grifo e con Ganga Bruni Abbiamo cercato bene la barca, l'equipaggio, persona per persona Abbiamo studiato tutto Poi Ganga è bravissimo Io non ho avuto mai dubbi Per scaramanzia non lo volevo dire Ma che questo fosse l'anno giusto ne ero quasi certo Il mio primo anno, io mi sono candidato nella continuità Il fatto di aver fatto un terzo, un secondo Doveva essere il primo Sono veramente contento, orgoglioso per i miei soci E penso che questo è solo l'inizio Ha dedicato questa vittoria anche all'ex presidente Buccione Sì, senz'altro Gabriele Buccione aveva inseguito tanto questo momento E io proprio nel momento in cui abbiamo tagliato il traguardo Ho pensato a lui, come sarebbe stato felice lui E come lo è stato È la prima persona che ho chiamato subito Che ho avvertito del fatto che eravamo i vincitori con la classifica Orc Che era la più numerosa Tutte e 19 quasi le imbarcazioni E quindi lui veramente contento come me Ripeto, siamo orgogliosi del nostro club Siamo orgogliosi di appartenere al Rogero di Lauria E vogliamo andare avanti Avanti tutta Vieni a visitarci su www.siciliainformazioni.com Ovunque in tempo reale